non posso perdere il mio lavoro non dipende da me che vuole che faccia che venga lì e mi metta a gridare che state buttando una famiglia per strada lui è mio figlio raul figliastro ecco la polizia ha preso una bambina stamattina non so se hanno portato la bambina in un centro se hanno arrestato la madre le potrebbero togliere l'affidamento devo assolutamente vederla andiamoci prima che prendono che mi cacci questa è la mia casa è una bambina di sette anni venga a scuola da sola non è normale tu faresti la stessa cosa non mi rovino la vita per nessuno non lo fai se non ti ci trovi ma se lo vedi sei coinvolto il problema è quando fai finta di non vedere tutto quello che ho fatto è sbagliato tu non hai fatto niente di sbagliato li fermeremo vai in giro promettendo a chiunque che gli sistemerai la vita a chiunque io lavoro mantengo questa famiglia e tu mi hai lasciato sola ma è lei sicuro sicuro è finita abbiamo perso io non ho perso ancora ma è lei sicuro Grazie a tutti.